Rulex Robotic Data Correction RDC è una soluzione di intelligenza artificiale per la correzione automatica degli errori di immissione dati. La soluzione Rulex RDC analizza dati storici, determina le regole per calcolare le voci corrette, quindi le utilizza per trovare le voci errate nei dati esistenti o appena creati. Le banche aderenti allo Swift possono scambiarsi messaggi attraverso un sistema di telecomunicazioni che permette loro di effettuare operazioni bancarie come ordini di pagamento, girofondi, accreditamenti e altri in tempo reale e senza bisogno di codifica. La struttura complessa del messaggio Swift ne rende difficile l'estrazione del dato puntuale che in alcuni casi risulta essere errato o mancante. La soluzione RDC si affianca al programma di estrazione dei dati dal messaggio Swift per proporre il valore corretto per i campi beneficio rename e siti. RDC è in grado di apprendere dai dati per proporre il valore corretto più probabile con un approccio di correzione incrementale. Si inizia con l'addestramento che avviene facendo uso di una serie storica di dati da cui sono estratte le regole di correzione. Nello specifico il processo di apprendimento avviene in due fasi. Inizialmente si estraggono le regole che permettono di correggere il beneficio rename. A seguito della correzione del beneficio rename una seconda fase di training determina le regole per la correzione della siti. Una volta terminato l'addestramento la soluzione RDC è pronta per correggere nuovi flussi. Di seguito si possono vedere alcuni esempi di correzioni proposte da RDC. Correzioni basate sul nome, correzioni basate sulla siti. L'approccio non deterministico della soluzione RDC evita tempi lunghi per il debug dell'errore e la relativa correzione. La soluzione è facilmente integrabile con l'architettura esistente. È in grado di imparare nuovi scenari evitando complessi sviluppi. La soluzione RDC Swift è stata creata in collaborazione con il nostro partner soft strategy Digital Trust, il cui know-how sulla tecnologia Swift ha permesso di isolare gli attributi più significativi del messaggio stesso. Per sapere